Una cerimonia sobria ma sentita nella chiesa di Piazza Loreto alla presenza di autorità civili e militari. I Vigili del Fuoco di Gosenza hanno celebrato così la propria patrona Santa Barbara, una messa ufficiata da Monsignor Salvatore Nunnari che ha ricordato l'importante ruolo che svolgono i Vigili del Fuoco per il bene della comunità. Il comandante provinciale Gino Novello e suo vice Massimo Cundari hanno ringraziato i tanti Vigili del Fuoco presenti per gli sforzi e i sacrifici a cui sono chiamati tutti i giorni. La festività di Santa Barbara, detto il comandante, costituisce ogni anno un momento di raccoglimento e riflessione per tutti noi. Il comandante Gino Novello, a margine della messa, ha ricordato l'impegno dei pompieri nella provincia di Cosenza. Quest'anno, da inizio 2013, sono stati oltre 9.000 gli interventi di soccorso, quasi la metà per incendi sviluppatisi sul territorio e poi oltre 2.000 interventi per danni a seguito di forti piogge e quasi 500 per incidenti e soccorsi a persone. Non solo, in quest'anno i Vigili del Fuoco hanno avuto un impegno importante anche nelle scuole per una campagna di informazione e sicurezza. Oltre 1.500 i bambini coinvolti dal progetto che sicuramente continuerà anche nel prossimo anno.